Il match di Andrea ci ha restituito un Pescara piatto senza ritmo, dopo la cinquina con la potenza non c'è stata l'attesa conferma. Contro il Giuliano Colombo torna al 4-3-2-1, 4-3-3 che dir si voglia. A centrocampo rientrano Mora e Aloi a Settecraia, problemi al Polpaccio ne avrà per altre tre partite. Davanti Merola e Raffiale, spalle di Vergani per contro 3-5-2, 4 novità. Alex Scognamiglio in difesa e Yango e Raffaele Poziello in mediana, la Monica in attacco al fianco di Salvemini sulle fasce di Dio. E Oyevale Piovaccari parte della panchina, entrerà nel corso della ripresa, la ricerca del pareggio che arriverà al 94esimo. Il merito di Sorrentino, il Pescara che aveva sbloccato il punteggio, fa una fatica in mane la squadra biancazzurra del primo tempo. La buona opportunità per Mora non era facile, di controbalzo sul cross da sinistra di Crescenzi. La palla termina altissima sopra la traversa della porta difesa da Jacopo Sassi. Poi il controllo di Vergani, Raffiada, posizione tra le linee, posizione trequartista, il suo assist perfetto per Merola che controlla il pallone. Poi scarabocchia, insomma il pallone stesso viene bloccato da Jacopo Sassi. Grande opportunità fallita, sprecata da Merola. Quindi il Giuliano si fa vivo con un gran sinistro di Felipe, l'italo-brasiliano, classe 2000, ex Verona, piazzato sulla traiettoria. Il portiere Pizzari che sventa in calcio d'angolo. Trentunesimo ancora pericoloso il Giuliano. C'è un errore, da matita blu, di Aloy. Il destro a giro del numero 7 Salvemini, uno degli attaccati della squadra di Lello di Napoli. La parata di Pizzari, sempre pronto, inquadrata alla tifoseria bianca-azzurra del settore dei distinti. Quindi vediamo ancora il Pescara, siamo nel primo tempo Merola, lo spunto. Il destro di Crescenzi va a coprire la porta allo specchio. Gennaro Scognamiglio è come un gol fatto. A parte dell'ex giocatore del Pescara, 36 anni, il prossimo 24 aprile. Inquadrato Alberto Colombo, il Pescara ha fatto pochissimo nel primo tempo, anzi molto deludente. Ripresa, iniziativa personale di Merola, uno contro uno con Ciro Pozziello che gli dà lo spazio. C'è luce per il suo sinistro, complice, il portiere Jacopo Sassi. Ma la cosa più importante è che il Pescara abbia sbloccato il punteggio con Davide Merola. Terzo gol con la maglia bianca-azzurra, 51, Pescara 1, Giuliano 0. Sembra che il Pescara possa giocare un'altra partita a questo punto con Giuliano che sicuramente si presume che alzi il baricentro. Ma tra poco arriverà l'imponderabile, per così dire. Intanto rivediamo la conclusione non irresistibile di Davide Merola che fa tutto bene. Si sposta il pallone sul sinistro e il tiro non è, ripetiamo, irresistibile. Ci mette del suo il portiere Jacopo Sassi. Risultanza di Davide Merola, terzo sigillo con la maglia del Pescara dopo la doppietta con la potenza. Qui c'è il lancio, legge malissimo questa situazione, tattica la difesa. Il portiere del Pescara, Pizzari, in ritardo. Sbaglia ad uscire sulla Monica, rosso estratto dal direttore di gara Luca Kerchi della sezione di Carbonia. Il Pescara in dieci uomini dal sessantaduesimo. Dunque 30 minuti più recupero, 28 più recupero di 5 minuti. Il Pescara in inferiorità numerica viene espulso. Pizzari, quindi viene richiamato in panchina, Bergani al suo posto. Naturalmente il secondo portiere, Sommariva, esulta. La tifoseria, esultano i sessanta tifosi provenienti da Giuliano. Qui al settantesimo c'è ancora uno spunto di Merola e Lescano entrato dall'inizio del secondo tempo. 4-2-4, Cincischia, Scarabocchia, anche piuttosto goffo se vogliamo. Lescano non ce ne voglia l'attaccante italo-argentino che non è al top della condizione e si è visto anche nella partita di oggi. Poi tante sostituzioni entrano naturalmente diversi attaccanti, soprattutto Lorenzo Sorrentino, classe 1995, 200 presenze tra i professionisti. Sarà decisivo per le sorti della sua squadra. Intanto il Pescara ancora con questo invito di Lescano al centro dell'area fa buona guardia. Ancora Scognamiglio che pulisce la sua area di rigore. Situazione di potenziale pericolo per il Giuliano che si riversa nella metà campo della Pescara. Nicolas Rizzo, anzi Iglio è entrato in corso d'opera. Il suo traversone, il suo cross a tagliare l'area. Piovaccari è entrato da qualche minuto. Spreca l'impossibile. Sommariva si ritrova il pallone tra le mani. Siamo al novantunesimo. Cinque minuti di recupero. Attacca in costante proiezione offensiva la squadra ospite. Ancora una parata di Sommariva, una serie di diversioni. Il pallone viene bloccato senza problemi. Poi Rizzo, Nicolas Rizzo, a vuoto lo svarione di Lescano. Il pallone praticamente viene controllato da Sorrentino che da due passi trafigge Sommariva. Novantaquattresimo e l'appareggio del Giuliano è festa grande, naturalmente, a parte della squadra di Lello di Napoli che ci ha creduto fino alla fine, naturalmente, in superiorità numerica. Lo ricordiamo, dal sessantaduesimo, l'espulsione di Pizzari, ne ho rivisto, lo svarione. Cose che capitano da parte di Lescano che nel tentativo di pulire l'area manca il pallone completamente a vuoto e ne approfitta l'attaccante del Giuliano che era entrato proprio da qualche minuto. Stop e conclusione, la distanza era avvicinata. Nulla da fare per Sommariva che aveva preso il posto di Vergani dopo l'espulsione di Pizzari. Il novantaseesimo finisce qui, Pescara 1, Giuliano 1, le delusioni non si contano più.